Ciao a tutti e benvenuti a GialloBook, le video recensioni su libri gialli. Oggi ci vediamo un unboxing velocissimo, il 39esimo, nonché il contenuto di questa busta. E dentro questa busta c'è lui, ho scelto lui per un motivo molto particolare. Allora, qualche tempo fa su Instagram l'autore di questo libro mi ha scritto chiedendo di leggere il suo libro e di fargli una recensione. Detto fatto, di questo libro arriverà la recensione quanto prima. Allora, detto questo fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprereste. Vi ricordo che se vi piacciono i video che faccio considerate l'idea di iscrivervi al canale e attivare la campanina se vi va. Che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete scriverle sotto nei commenti e risponderò appena possibile. Di iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione. Di farmi sapere sempre nei commenti se e quali nuovi format volete che io porti sul canale. Di controllare di tanto in tanto la sezione community del mio canale, dove troverete annunci, variazioni di live quando ci saranno e così via. E di condividere questo o altri video con i vostri amici. Di modo tale che più siamo e più ci divertiamo. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima. Statemi bene, ciao!